Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà, noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume, a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore. Non sarà il canto delle sirene, ascoltaci oh signore, mio padre era un marinaio, conosceva le città, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa... Ed è Francesco De Gregori e le sue sirene ad aprire quest'ultima parte di Uno Mattina, ci occupiamo proprio di sirene, ma lo faremo in modo del tutto particolare, queste sedutrici per eccellenza, metà donna, metà pesce, le sirene sono creature che da sempre colpiscono la nostra immaginazione, ma soprattutto qual è la loro storia e perché ci affascinano. Ne parliamo in studio con Matteo Nucci, che è scrittore, autore del libro Achille e Odisseo, la ferocia e l'inganno, edito da Einaudi. Buongiorno. Buongiorno. Ma prima ci colleghiamo con Massimo Tosi, che è collegato con noi da una barca, vedo, dal mare di Taranto, per l'esattezza. Massimo, come mai ti trovi lì? Buongiorno. Allora, siamo su questa meravigliosa barca perché oggi siamo venuti a trovare, poi vi presento il nostro ospite, una particolare donna, un po' donna, un po' pesce, come avete detto, eccola qua. È qui sull'Iscoglia una bellissima sirena, si chiama Schiuma, ed è stata creata dal maestro, dallo scultore Francesco Trani, che è qui con me. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie all'ospite, grazie della visita. Ma grazie a lei. Allora, questa è una delle tre sirene che si trovano qui sulla scogliera del porto di Taranto. Questa la vediamo bene perché è a favore di luci. Prego l'operatore di quadrare le altre. Eccola qui. Questa è di schiena. Come vedete, siamo proprio direttamente, sopra di noi c'è la città. E poi un'altra ancora. Adesso facciamo un giro della telecamera a 180 gradi, praticamente, ed eccola. Questa è la terza sirena. E queste tre sirene salutano la città. C'è una leggenda, vero, legata proprio a Schiuma, quella che è alle nostre spalle? Sì, in effetti anche essa fa parte di un gruppo di sirene che dal nome di Etra, Schiuma e Satiria. Schiuma in particolare fa parte di una leggenda che insegue la città di Taranto. Ed era una ragazza meravigliosa, una fanciulla molto bella. Sposata ad un aitante pescatore. Ma il pescatore usciva praticamente tutte le notti in barca. La sposa rimaniva da sola e quindi? E quindi si cedette a lui. A un nobile della città, giusto? Il marito, tornando la mattina, scopre l'inganno e il tradimento. E che fa? E lui, per punirla, la portò al largo dell'acqua e la gettò giù in acqua. Beh, è una leggenda questa e mi raccomando, sottolineiamolo. Quindi la signora, la sposa, scende in acqua, non sa nuotare ed incontra? Ed incontra le sirene che in quel momento si trovavano lì esattamente sul luogo. A quel punto la portarono dalla loro regina e la regina, vedendola così bella e aitante, la salvò. La salvò e la nominò sovrana delle sirene. Beh, è una leggenda meravigliosa, infatti qua intorno in questo mare le sirene si vedono tutti i giorni, vero? Certo, certo che si vedono tutti i giorni. Le avete avvistate? Parliamo di quest'opera seriamente. Sì, sì, assolutamente. Io ho fatto un giro, sono venuto qua alle 5 stamattina e ne ho viste almeno 15 circa. Ma la sirena più bella l'abbiamo in studio in questo momento, Barbara. Assolutamente, assolutamente. E allora, torniamo. Ma raccontiamo un attimo di questa creazione. Ah, volevamo solo sapere quanto tempo ha impiegato a realizzare del peso. L'esecuzione delle tre opere, anzi veramente sono quattro, circa 7-8 mesi per poter fare la fusione in cemento marino, così chiamato idraulico. E pesano 250 kg? C'è da una, sono 250, 2 tonnellate e mezzo, che per poterle poi sistemare sul frangiflutti, abbiamo utilizzato delle gru sulle chiatte, c'è tutta un'organizzazione. Un'operazione importante. Infatti sono bellissime perché salutano la città, anche la sera sono visibili dai riflessi dell'acqua, quindi è un panorama veramente fantastico, affascinante, che ci porta in questo mondo di leggende. Grazie, grazie. Il canto di Ulisse con le sirene è la terza prova che deve superare Ulisse dopo Polifemo, dopo la Maga Circe, adesso il canto delle sirene. In che cosa consiste questo potere ammagliatore delle sirene che attirano gli uomini con il loro canto? È proprio il canto e la tentazione che inducono nel conoscere questo canto, perché Odisseo sa che questo canto lo ammalierà al punto da fargli dimenticare il ritorno, dimenticare il ritorno a casa. Però vuole sapere perché questo canto possa essere così potente da impedirli poi di tornare a ritrovare Penelope e suo figlio Telemaco. Ecco, vediamo appunto il momento fatidico che tutti noi abbiamo letto sui libri di scuola in cui Ulisse si fa legare assieme agli altri marinai all'albero della nave per non farsi ingannare dalle sirene. Ecco, vediamo appena. Vieni tra noi e saprai ogni cosa del passato e del futuro e conoscerai la gloria dell'uomini e delle città che furono e che stai. Lascia i tuoi compagni, lascia questa navigazione senza meta, fuggi gli anni squallidi della vecchiezza. Scendi! 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 Beh, Nucci, qui più che canti erano delle urla o delle parole, ma cosa cantavano poi le sirene? Duemila anni fa, esattamente duemila anni fa, Tiberio, imperatore romano, radunava i sapienti per sapere cosa avevano cantato le sirene. Nessuno aveva una risposta. Io credo che si possa avere la propria interpretazione, io ho la mia, leggendo quei pochi versi di Omero si ha l'impressione che le sirene sappiano tutto del passato degli uomini che navigano sul loro mare. Se uno ti dice il passato della tua vita, secondo me ti impedisce poi di vivere il futuro, perché noi conosciamo il passato con il nostro modo di vedere, il nostro sguardo, ma se ti dicono la verità su ciò che è accaduto, poi secondo me smetti di desiderare di andare avanti. Questa è la mia idea, ma ognuno ha la sua, certo. In genere quando pensiamo alla sirena, per indicare una donna bella, affascinante, ma sono sempre state belle le sirene? Ma no, per niente, anzi le sirene antiche non erano metà pesce, erano femminili, ma pennute, erano metà uccelli, piuttosto brutte, piuttosto mostruose forse. Ecco, la bellezza della sirena stava nel canto, nella malia del canto e nella sua ambiguità, perché appunto questo essere duplice, forse, e marina comunque, anche se pennuta, figlia di Achelò, dio del fiume, insomma, rendeva questo essere ambiguo, quindi dotato forse della bellezza dell'ambiguità, che è sempre potente in qualsiasi epoca. Ed oggi, a quanto pare, è facile trasformarsi in una sirena e questo ce lo racconta Giovanni Messina in questo servizio, vediamolo. No, il servizio non ce l'abbiamo, mi sembra di capire. Beh, Nucci, possiamo commentare insieme da dove nasce anche il mito delle sirene, che in realtà nasce da un animale? Beh, sì, da un animale, nel senso di cui stavo parlando, dell'animale che ha a che fare col canto, che canta una musica incantatoria, ammaliante, che strega, quindi insomma, che è vicino al canto delle onde. L'etimologia di sirena è molto discussa, probabilmente deriva dal semitico sir, che significa proprio cantare, ammaliare, ecco. Quindi, insomma, direi che più che l'animale si tratta proprio del suono, del suono che a un certo punto rende spaisati, ci lascia in balia appunto delle onde. Dall'antichità ad oggi, chi sono le sirene moderne? Ma poiché sono proiezioni umane, l'uomo che crea questo essere fantastico, io direi che nei nostri tempi la tentazione più drammatica è quella del successo, dell'avere successo a tutti i costi, il mostro del fallimento. Non si può fallire, non si può sbagliare, non si può perdere. Invece, no, noi siamo esseri umani. Gli eroi omerici, per l'appunto, sono eroi proprio perché sbagliano, proprio perché piangono, piangono in continuazione gli eroi omerici. E quella è la loro forza, perché riconoscono la loro fragilità. E allora vogliamo salutarvi con due sirene molto amate che hanno fatto sognare milioni di italiani. Vediamo. Marinaio dove vai? Se per caso non lo sai, le sirene siamo noi. E allora termina qua il nostro spazio dedicato alle sirene, salutiamo il nostro ospite Matteo Nucci, grazie per essere stato con noi.